Allora proviamo questo VR VR della PlayStation vediamo come funziona dovrebbe essere tutto a questo posto vedi che roba raga pare di sto macchino davvero mamma mia che faiata insa come dire questo spada ciao bello vada fichissimo mamma mia che sensazione c'è una delle carcagna questo che figata madonna che pippa ha asso verbe Stavano a lungo Stavano al liscio pure la Rola questo Hai perso secco Mamma mia fantastico Stavano Stavano al liscio Stavano al liscio Stavano al liscio